Buonasera a tutti, benvenuti. In questo webinar comunque in generale parleremo di robotica collaborativa e in particolare dei sistemi di presa progettati da QB Robotics per l'ambito industriale. Quindi si parlerà di QB Soft End Industry, QB Soft Claw e in particolare andremo un po' a focalizzarci su due verticali di mercato grazie alla testimonianza di due aziende che hanno messo a punto delle applicazioni rispettivamente in ambito agri-food e in sistemi di picking che integrano visione e intelligenza artificiale. Iniziamo con il primo intervento, quindi si parlerà della QB Soft End Industry alla QB Soft Claw, vantaggio e potenzialità. Introduco quindi Fabio Bonomo che è cofondatore e CEO di QB Robotics. Quindi la parola a te Fabio. Ok, grazie Angela. Buonasera a tutti, buonasera ai relatori e agli ospiti. Diciamo ci tengo particolarmente a questo primo webinar che stiamo organizzando ufficialmente qui in QB Robotics. Allora, brevemente cercherò di raccontare un po' le tecnologie di cui parleremo questa sera e raccontarvi anche un po' dell'azienda. Se siete d'accordo, per non rubare troppo tempo, andrei subito con la presentazione a condividervi la presentazione. Allora, vabbè, già ci siamo presentati, quindi non vado oltre. Il mio nome è, vabbè, sono Fabio Bonomo, amministratore e cofondatore di QB Robotics. L'azienda nasce nel 2011, siamo stati qui, abbiamo la nostra sede generale, sede dei quartieri locati qui al Polo Tecnologico di Navacchio, alle porte di Pisa. Siamo una scale-up, ai tempi eravamo start-up e PMI innovativa sia dell'Università di Pisa che dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ormai scale-up. Siamo associati ai principali, diciamo, consorsi di robotica come l'IFR internazionale, ovviamente, tu Robotics, RIA e Unione Industriale. Fondiamo le nostre radici nella ricerca, infatti abbiamo fatto parte di diversi, consorsi progetti europei, collaboriamo ancora tutt'oggi nell'innovazione perché è il nostro DNA. Siamo un gruppo di ragazzi, un gruppo coeso, nato qualche anno fa, è lo zoccolo duro, diciamo, dell'innovazione dell'azienda. Abbiamo, siamo certificati ISO, vabbè, abbiamo anche in pancia, ovviamente, brevetti internazionali, licenze di uso esclusivo, tra l'altro i numeri dovrei anche aggiornare. Allora, questi sono alcuni dei nostri partner industriali, centri di ricerca industriali con cui abbiamo lavorato e collaborato in eterno o nel tempo. Ovviamente, dietro ogni logo c'è una storia, un racconto e anche un processo di crescita, credo, per ambo, non solo per QB Robotics, ma anche per la controparte. Bene, andiamo subito nel discorso di quello che è l'argomento robotica. La robotica convenzionale l'abbiamo tutti presente, immagino. È la robotica pesante, pericolosa, separata con una grossa barriera dall'uomo, anzi, nel momento in cui ci sono delle celle, nel momento in cui si apre, si interferisce nello spazio di lavoro del robot, il sistema si blocca, si interrompe. Bene, la robotica ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ha iniziato ad aprire le porte a quella che è un'interazione sicura uomo-macchina, quindi un'interazione a stretto contatto con l'uomo, quasi sinergica, e soprattutto è iniziata ad essere molto più flessibile nei task che doveva fare, quindi anche semplicità che doveva svolgere, quindi anche semplicità nel controllo. Bene, ha un'evoluzione della robotica, a nostro avviso soprattutto, a mio avviso, anche personale, la stessa cosa non è successa alle pinze, che di norma sono rimaste al palo, due barre d'alluminio, fatte magari ad hoc per uno specifico task, eventuale elettronica on board messa sopra queste pinze, esasperandone quelle che erano i concetti, però di fatto due barrette d'alluminio. Da qui abbiamo capito che c'era spazio e c'era necessità di innovare anche negli endeffetto, gli organi di presa, e qui Combi Robotics ha iniziato a trovare un suo spazio di applicazione, ispirando la robotica proprio all'uomo, ma in generale alla natura, quindi trarre ispirazione da chi nel tempo aveva migliorato. Uno è questo, diciamo, quindi ispirazione al corpo umano, lo vedremo per ogni nostro prodotto, quindi applicarsi alla software Robotics per dare, diciamo, un'interazione sicura come macchina, nel vero senso della parola, non mettere sopra dell'elettronica per emularla. È una meccanica intelligente e adattiva, quindi dispositivi in grado di adattarsi autonomamente, quindi con l'intelligenza meccanica proprio, ma soprattutto facili da controllare, perché l'applicazione, il prodotto migliore che ci possa essere al mondo deve essere usato facilmente, altrimenti c'è qualcosa che non va. Bene, da qui le nostre tecnologie hanno tratto, diciamo, hanno permesso la soft hand di trarre vantaggio, di ispirarsi appunto ad un interfetto rispirato a quella che è la mano umana. La variable stiffness invece è una tecnologia che si è ispirata a quelli che sono i nostri muscoli. Partiamo subito a elencare quella che è la soft hand e a raccontare un attimo i pregi di questo dispositivo. La prima sinergia l'abbiamo un po' in mente tutti quando vediamo un neonato appena nato. Riesce a fare questo ovimento, quello che è un'operazione di chiusura semplice, poco articolata, un controllo diciamo molto semplice, però con questo piccolo gesto riusciamo già a fare da 50 al 65% delle prese umane. Ovviamente questi sono progetti di ricerca che negli anni ha finanziati dall'Unione Europea milioni di euro, quindi noi abbiamo fatto un traghettamento di questo know-how, di questa conoscenza, quindi prendete per buono quello che vi dico perché dietro ci sono stati degli studi. Detto questo, il dispositivo, la soft hand, appunto questa prima sinergia, come la possiamo replicare quindi in modo uno a uno fedele in un dispositivo. Bene, se immaginiamo le dita le possiamo scomporre, qui vedete un diagramma sulla destra, una foto schematizzata che emula un dito e sono delle falangi collegate fra loro congiunti elastici e un unico tendine che le attraversa e a volte su ha un capo di un motore. Questo permette una distribuzione automatica delle forze, quindi adattarsi automaticamente agli oggetti, alla forma diversa degli oggetti e agli ambienti, all'ambiente che lo circonda, questo tutto mediante, senza anzi l'ausilio, scusate, di sofisticati sensori, quindi una semplicità d'uso, una desensorizzazione e un'intelligenza meccanica che viene conferita al sistema e quindi riesce a dare un valore aggiunto ai dispositivi. Questo cosa comporta? Sicuramente un sistema sottoattuato, quindi un solo motore riesce ad adattuare più gradi di libertà, flessibilità, robustezza, l'antropomorfismo che non basta e poi come dicevo prima semplicità nel controllo. Due soli comandi, apri e chiudi, quello che facciamo con le plesive cassiche pinze presenti sul mercato, riusciamo a prendere oggetti da forme diverse. Giusto per raccontarne qualcosa, un cambio di un'automobile piuttosto che una bottiglietta d'acqua, d'acqua piuttosto che un manufatto, piuttosto che della frutta, pomodori, ortaggi o altri oggetti, o anche caricamento di macchine al controllo numerico, quindi pezzi di albubinio anche non ben sacomatici. Bene, qui elenchiamo subito e velocemente una carrellata di quelli che sono i prodotti che si passano sulla tecnologia della soft-end. Parto da sinistra della research, dove sviluppiamo appunto la prima sinergia, la due motori, dove sviluppiamo non soltanto quello che è la presa, ma anche la manipolazione degli oggetti, con due sinergie, quindi due motori, aumentiamo. Questo è ancora un dispositivo che sta trovando una maturazione negli ambiti sia industriali, di ricerca e sviluppo, ma anche universitari. Ma quello su cui si soffermeremo questa sera è il dispositivo alla destra del vostro video, che è la QB Soft End Industry. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto tutte le peculiarità della tecnologia della soft-end, quindi flessibilità, adattabilità, robustezza, robustezza alla deformazione, adattabilità agli oggetti più svariati possibili, adattarsi autonomamente, però abbiamo fatto tesoro di quelli che sono stati i feedback dei nostri partner. Ad esempio un IP65, cioè resistenza alle polveri all'acqua, di elevato grado, un po' come immaginate alcuni robot, da parte robot hanno i P54, quindi un maggiore robustimento da questo punto di vista. Un guante intercambiabile, perché a volte veniva richiesto dalla banale colorazione e personalizzazione, invece a qualcosa di più importante, maneggiare il food, avere dei guanti siliconici, oppure in grado di resistere ad agenti come l'acido, base bacita o base basica. E poi, ultimo e non da ultimo, anzi penultimo, è il polso angolato, perché c'è la necessità a volte di scendere, di andare in profondità in cassoni stretti, lunghi, profondi. Ecco, col polso angolato si arriva fino a 90 gradi e si scende in modo verticale. Ultimo e non da ultimo, credetemi, è la certificazione di questo dispositivo. Infatti è la prima mano certificata collaborativa dal TUV, secondo le regole di interazione sicura monomacchina descritte nella ISO TS 15066 e conseguenti. Come vedete sulla destra abbiamo alcuni dei campi di applicazioni, soprattutto la compatibilità con i maggiori produttori, i più importanti produttori di robot. In realtà questo lungo elenco da KUKA, FANO, con Universal Robot vanno via via aumentando. Ecco, andiamo subito in alcuni casi applicativi. Il primo è la manipolazione, o in questo caso scusate la presa, il pick and place di frutto da posto, diciamo piccoli oggetti delicati, ecco questo è il messaggio che vogliamo trasferire che vengono presi e riposizionati. Vado avanti. Ecco, questo invece sono due video velocissimi, molto, come posso dire, delicati, realizzati proprio al volo con dei telefonini. Questo perché un partner, prima di iniziare a collaborare con noi, ci chiese abbiamo necessità di mettere in sicurezza delle persone che lavorano con oggetti, diciamo, a volte anche abbastanza fastidiosi e nel tempo sappiamo essere cancerogeni. I vostri dispositivi riescono a spostare queste pipette, queste fiale. Abbiamo fatto un video col telefonino e nel giro di poco abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione e questo mi piace sempre raccontare. Poi c'è invece un altro settore che sta prendendo molto piede. Io sto raccontando alcuni settori, diciamo, di interesse. Un altro settore verticale sta trovando piede è il lusso. Non tanto, ovviamente, l'interferenza da parte della robotica, perché non credo serva, nella produzione del manufatto, quanto nel testing di questi manufatti di lusso, dove vogliamo garantire, o meglio, dove il produttore vuole garantire che il manufatto duri nel tempo, perché è un valore aggiunto che viene dato, un rapporto, diciamo, di qualità. Quindi non tanto interferire nel processo di produzione, quanto in quello di testing, la bontà del prodotto nel tempo. Quello che avete visto è la mano che interagisce con una cernina di una borsa e credetemi può essere fatto in diversi modi. Questo è anche il modo, forse, anche troppo evocativo, però se vedete le sollecitazioni che vengono date, poi in timelapse è stato mandato in modo accelerato, sono effettivamente quelle che vengono generate quando noi andiamo ad aprire una borsa e la chiudiamo. Esattamente questo. Quindi il seguire il profilo del percorso della cerniera, gli ostacoli che ne possono essere e che si possono riscontrare e via di seguito. Un altro invece, sempre nel settore lusso, che mi piaceva raccontare, è l'usura che può essere data, vedete poi come la mano si adatta esattamente alla presa, in due modi diversi, come può essere sollecitato quello che sono, diciamo, le bratelline di una borsa. Se vedete un attimo, ecco, questo è proprio come viene conformata, come si conforma la mano, uno a uno, fedelmente a quello che è la mano umana, quindi la softend replica, esattamente quello che è il task. E questo, credetemi, sono soltanto alcuni degli aspetti che la softend riesce a replicare. Abbiamo trovato dei test veramente curiosi a cui non avevo fatto caso. Ovviamente siamo seppelliti da NDA, però stiamo trovando interesse in questo settore, anche, diciamo, un bel interesse, anche dal punto di vista tecnico. Bene, come abbiamo descritto, passiamo all'altra tecnologia, accelero un attimo, altrimenti mi dilungo troppo. L'altra tecnologia di cui volevamo parlare oggi è la variable stiffness, ha i nostri attratori innovativi, anch'essi basati sulla natura, ci ispiriamo anche qui al corpo umano, questa volta ai muscoli. Tutti i riduttori che abbiamo in commercio abbiamo un controllo classico, che è quello di rotazione sull'albero di uscita, dove diciamo ruota di 30 gradi, oppure stai fermo. Quando ruoti di 30 gradi, l'albero di uscita si muove di 30 gradi. Bene, noi, con la nostra tecnologia brevettata, abbiamo aggiunto un'altra variabile sull'albero di uscita, che è quello che vuoi rimanere fermo, puoi rimanere fermo, puoi ruotare di tot gradi, 30 gradi, nell'esempio appena fatto, però puoi rimanere sull'albero di uscita, puoi rimanere rigido, oppure flessibile, morbido. Questo, diciamo, permette di conferire al sistema, quindi sul mondo esterno, una morbidezza, una cedevolezza. Adesso proviamo a spiegare, l'abbiamo provato a calentare, a inserire un toro all'interno di una nostra pinza, e questo permette di fare che cosa? Comportarsi in rigidezza massima, quindi quando i nostri muscoli sono completamente contratti, esattamente come una pinza presente sul mercato, quando dobbiamo spostare il tot chile, piuttosto dobbiamo fare un'operazione di precisione. Nel momento in cui dobbiamo fare dei task dove è richiesto una certa interferenza nelle operazioni, oppure dobbiamo muovere, movimentare qualcosa di delicato, qui c'è una piantina che è molto evocativa, a quel punto entra in gioco la rigidezza, la cedevolezza, o meglio dire, lo speculare. Anche qui ci sono dei campi di applicazione, in questo caso vanno dalla robotica classica, o meglio, sulle prese classiche, comportamenti classici dei creeper convenzionali presenti sul mercato, ha una tecnologia, una classe di problemi finora affrontati, se non con tool ad hoc, oppure affrontati con elevati sensori, perché anche qui, come vedete, sui pad di uscita non abbiamo sensori, tutta l'intelligenza è conferita dal sistema meccanico, visto le incariche di applicazione robot collaborativi. Qui vi spiego un secondo in un video, almeno ci provo, ecco qui siamo nella configurazione soft, la minima che può essere data, qui andiamo in una configurazione medium, dove l'oggetto viene trattenuto, però, ecco, vedete, ancora non siamo in una posizione strong, quando la cedevolezza viene azzerata, quindi siamo totalmente rigidi, ecco, qui ci comportiamo con una classica pinza, quindi abbiamo dei preset che vengono utilizzati, vengono configurati, in cui diamo dei suggerimenti, però ovviamente possono essere customizzate queste cedevolezze di volta in volta, a seconda della galassia dei problemi che andiamo a affrontare, quindi i macro problemi. Vi dico questo perché, perché nel momento in cui noi ci posizioniamo in un sistema rigido, ecco, qui abbiamo un classico approccio, un classico problema che è il testing che viene fatto su una pulsantiera per sistemi di quadri elettrici, credo siano ascensori questi, ecco, qui dove la rigidezza la fa da padrona, non serve essere cedevole, anzi, brutali perché quel tasto, quella rotazione, vi posso assicurare, quella manopola non è per niente dolce, qui bisogna fare una determinata pressione, questo può essere fatto da una qualsiasi pinza, e questo, come vedete, è una classica pinza che è all'opera, quindi a questo punto un qualsiasi gripper presente sul mercato può fare questo. Bene, ma noi andiamo oltre. Ovviamente qui si ferma, riusciamo a muovere la classica pinza e rincentrare in gioco pesantemente la cedevolezza. Qui riusciamo a movimentare degli oggetti, lo vedete anche voi, delle piccole piantine dallo stelo, ovviamente i vivaisti in questo momento mi stanno uccidendo, l'hanno già fatta, dove riusciamo a prendere con delicatezza questi steli. La pizza autonomamente, automaticamente adatta la forza necessaria per quell'intorno di peso che abbiamo preimpostato inizialmente e fa un riposizionamento, un ripicchettaggio di queste piantine nelle vaschette opportune. Quindi capite bene l'alta adattività alle forze che sono necessarie e la forza da imprimere per non tanneggiare le stesse piantine, gli stessi steli. Bene, ci iniziamo, ve lo prometto, andiamo verso la fine. Questo è un progetto, adesso si inizia a parlare più che di prodotti di innovazione, che poi alla fine, l'ho detto nella prima slide, da dove deriva, dove fondiamo le nostre radici. Questo è un progetto interessante, quello che vi sto accennando, che è il ReconCycle, un progetto dedicato al riciclaggio dei rifiuti. Noi abbiamo preso un sottotask dove c'è un elevato flusso, elevati tempi ciclo, un elevato flusso molto scostante, dove abbiamo, noi siamo stati chiamati a risolvere quello che è un task, un sottotask di un problema particolare. Tutti avete presente in casa gli allarmi, i sensori degli allarmi. Alla fine sono formati da che cosa? Plastica, elettronica e batteria. Sono tre componenti però di svariate forme, diverse l'una dall'altra, molto diverse. E quindi tramite quello che è la combinazione coerente tra la softend e la softclaw, siamo riusciti a creare una workstation, una cella di lavoro, una zona di lavoro, dove queste possono essere disassemblate in modo intelligente e in modo quasi automatico. Quindi questa è una challenge importante che stiamo portando avanti, l'anno prossimo finirà i progetti e poi potremo rilasciare ufficialmente i risultati. Un altro verticale, un altro spoiler che stiamo facendo, appunto, è questo. Le nostre softend, nella robotica di servizio, hanno trovato un'altra collocazione. A sinistra vedete il robot a Lodi, al centro a Terego e a destra invece un altro robot umanoide Oversonic. Ecco, quello centrale ovviamente siamo diciamo coproduttori di questo robot e abbiamo appena preso la licenza esclusiva di commercializzazione, quindi nel tempo a breve avremo anche Cubi Robotics nel settore umanoide. Bene, questa, ci accendiamo verso la fine. Questa è l'azienda presente nel mondo, tra parte dei distributori e integratori e adesso, prima di lasciarci, avremmo preparato in laboratorio una demo che ci aiuterà a introdurre i speaker che parleranno con noi tra poco. Non so se abbiamo già pronti, se sono già pronti dall'azienda per far vedere la demo. Ma qui nel frattempo che diciamo si preparino, oppure venga avviata la diretta, un breve racconto di quella che è stata la demo, con cui abbiamo lavorato anche con Maurizio, con Lifehills. Scusami Fabio, se ti interrompo, interrompi la condivisione così posso condividere poi dal laboratorio. Ok, avete fatto bene a dirlo. Grazie. Nel frattempo, sì, sì, giusto. Quello che abbiamo cercato di fare è creare un pilota, ora vediamo appena arriva e provo a descriverla così. Ecco, quello che abbiamo fatto è un pilota raccolta, diciamo, della frutta, viene targettizzato quello che è un punto di ripresa con della visione, viene riconosciuto il pomodoro, viene preso con la mano il pomodoro, è staccato. Qui abbiamo quindi l'intelligenza artificiale che, adesso voi non lo vedete a video, ma è così, viene targettizzato, il punto deve essere preso, automaticamente che cosa fa? Viene riconosciuto il pomodoro, parte appunto la strategia migliore di presa e il robot, insieme all'endeffetto, in questo caso vanno a prendere un, in questo caso un frutto, un ostaggio o quello che è un, manufatto. In questa fase di targettizzazione quello che viene fatto appunto è anche la strategia, quindi è una fase di apprendimento, quella che state vedendo proprio l'untime. Ok, io penso possiamo interrompere questa, tanto ne parlerà meglio Maurizio in una fase successiva. Questa era per dare un'idea, spiegare un attimo dietro le quinte che cosa si vuole fare, che cosa si è fatto, quindi intelligenza artificiale per il riconoscimento, traiettorie, identificazione del target e allo stesso tempo settori di applicazione, i nuovi tipi quali l'agri-food, il food, dove stiamo applicando, dove abbiamo dei verticali molto, molto interessanti, su cui anche la nostra azienda sta investendo. Grazie. Grazie Fabio, hai già un po' introdotto quello che è l'argomento successivo e quindi parleremo di robot collaborativi in contesti di modelli di economia circolare agrivoltaici e ho il piacere di dare la parola a Maurizio Manenti, che è fondatore del gruppo Solar Fields, leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili ed economia circolare. Lascio la parola a Maurizio, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Provo a far partire la presentazione. Allora sì, il tema sono appunto i robot collaborativi. Prima di arrivare a spiegare in pochissime parole il tema del connubio fra energie rinnovabili e agricoltura, agricoltura high-tech in particolare, mi piaceva giusto far vedere un paio di slide in cui il tema della collaborazione risulta evidente in tutta la sua importanza. Sembra cose che non c'entrano niente, però ecco, questa era delle rappresentazioni della demografia in Italia nello scorso secolo. Quindi c'è all'inizio del novecento, metà secolo e a fine duemilaventi. Se vediamo la distribuzione, quindi in verticale c'è l'età si passa da una piramide, quindi all'inizio del secolo chiaramente la vita media era molto più bassa e piano piano sale la parte più cicciotta del grafico ad indicare che l'età media diventa molto alta. Se noi ora facciamo una proiezione nei prossimi anni, vediamo che questa parte più grossa della società, quindi quella dell'età media, passando dal 2002 al 2020 al 2040, cresce sempre di più. Quindi la società, ora qui è limitata all'Italia, però diciamo che globalmente c'è un percorso simile in vecchia. Quindi quando si parla di robot collaborativi, l'intelligenza artificiale rubano il lavoro eccetera, bisognerebbe riflettere che probabilmente una colonna, due colonne a questa piramide rovesciata possono essere proprio la robotica e l'intelligenza artificiale. Ora l'idea, il nome della nostra, dello spin off che abbiamo fatto per il robot collaborativo, Yuka Robotics viene proprio da questo concetto. Yuka è un ideogramma, sono due ideogrammi giapponesi che giusto per curiosità è un nome che ci è stato dato a una delle nostre figlie da un maestro buddista giapponese che è morto proprio la settimana scorsa tra l'altro a 95 anni, che nella sua saggezza insomma ci ha mandato questo nome e ho trovato che si adattasse benissimo anche al nome di una società di robotica perché significa essenzialmente amicizia molto bella. Quindi il concetto di vedere il robot come in una maniera amichevole. Questo è l'obiettivo anche del nostro spin off di robotica. Noi però ci occupiamo di energia rinnovabile. Quindi il tema della robotica si introduce in un percorso di crescita e di evoluzione del nostro modello. Noi siamo partiti 15 anni fa dove si facevano solo impianti fotovoltaici. Negli ultimi anni c'è stata una grandissima rivoluzione di cui si parla poco che è quella che ha portato i grandi impianti fotovoltaici a essere più economici a punto di vista del costo di generazione dell'energia di qualsiasi altra forma. Questo che significa? Che non servono incentivi pubblici per fare la transizione ecologica. C'è un altro problema che questi impianti sono molto grossi, occupano spazio e la critica principale è stata proprio quella di rubare terreno all'agricoltura. Il nostro modello agrovoltaico già da sei anni è fatto un po' da scuola e integra essenzialmente attività agricole all'interno dell'attività fotovoltaica. Qui però io ho messo un titolo un po' diverso che dice modello agrovoltaico 2.0 verso un'economia circolare del fotodenergy perché l'evoluzione successiva è proprio quella di creare delle situazioni, dei contesti industriali in cui c'è un ciclo virtuoso di produzione e riuso dei sottoprodotti fra fotovoltaico, agricoltura e idrogeno. È un modello che chiaramente non è niente che non sia in voga perché si parla tanto di idrogeno verde eccetera che però fatto nella maniera giusta e con un riuso intelligente dei sottoprodotti genera poi un business plan che permette di essere sostenibile senza incentivi anche tutto il ciclo di produzione sia di idrogeno che di food e che poi vedremo anche di altre cose come l'itticultura. Ci sono dei progetti concreti, uno ne abbiamo fatto già da un paio d'anni che non prevedeva l'idrogeno ad acquapendente, si chiama acquapendente giardino solare che prevede integrazione di serre idroponiche, energivore, galled e fotovoltaico e poi siamo partecipi come progettisti in un progetto enormemente più grande di recupero industriale a Firenze che integra invece anche l'idrogeno. E quindi questo modello prevede di generare energia pulita a terra in maniera molto efficiente quindi senza bisogno di incentivi, utilizzare lo spazio fra le fila per generare, per coltivare, stoccare l'energia in appositi centri di stoccaggio, batterie eccetera, produrre idrogeno verde. L'idrogeno verde quando viene prodotto genera dei sottoprodotti che sono essenzialmente ossigeno e calore. Questi sottoprodotti vengono utilizzati per riscaldare serre idroponiche e per dare ossigeno a delle vasche di itticultura. Quindi si crea questo circolo virtuoso per cui si riesce a dare al kilowattora fotovoltaico una trasformazione in varie cose che creano veramente un esempio secondo me fra i migliori di economia circolare. Ora, come si inserisce poi la ricerca? In questo ambito in realtà la ricerca è sotto vari aspetti. Uno dei più importanti è sicuramente la produzione di idrogeno perché ci sono tante tecnologie che si stanno evolvendo. Un'altra è tutto quello che riguarda lo stoccaggio di energia, però oggi ci concentriamo un secondo sulla parte serre dove c'è tutto un tema di automazione delle serre con le nuove soluzioni offerte dal 5G, dall'IoT, quindi dalla sensoristica integrata, dal pilotaggio in remoto, monitoraggio in remoto, eccetera, ma anche dalla robotica. Ci sono già dei robot commerciali che fanno diverse attività nelle serre. L'obiettivo nostro, quando ci siamo uniti negli intenti con Cubi Robotics è proprio creare dei dispositivi customizzati per le varie tipologie di serre che siano anche economici, intelligenti e grazie alla Cubi Robotics abbiano quella nell'interfaccia fra la robotica e poi il prodotto, che è proprio la pinza o la mano, la sua valenza tecnica maggiore. Quindi grazie alla tecnologia di Cubi Robotics abbiamo messo su una demo che dà ottimi risultati. Faccio vedere, per dare qualche numero, faccio scorrere un video sottofondo perché qual è l'obiettivo? L'obiettivo di questo modello di economia circolare è quello di iniziare a dare degli strumenti per affrontare la sfida che ci aspetterà più avanti. Prima ha parlato della questione demografica, però i problemi che dovremo affrontare nei prossimi anni sono sotto gli occhi di tutti. Sono essenzialmente cambiamenti climatici, una crescita importante della popolazione mondiale, una disponibilità di suolo che diventa sempre minore e soprattutto sempre a causa dei cambiamenti climatici, è poco affidabile nel tempo, quindi uno rischia di avere delle annate ottime e poi delle annate in cui il rapporto viene nominato. Quindi questo modello permette di essere estremamente resilienti rispetto ai cambiamenti climatici nella generazione del cibo. È molto costosa, è tecnologia molto costosa questa delle serre idroponiche e quindi lo sforzo che stiamo facendo è proprio quello di integrare tecnologie che rendano sempre più economicamente autonome da incentivi o da sovraccosti queste soluzioni. Qui faccio vedere un video che aveva già fatto vedere in parte, era leggermente diverso, Fabio, la demo che abbiamo messo su, dietro questa demo che sembra semplice c'è tanto studio e tanta tecnologia, come diceva Fabio c'è un'intelligenza artificiale che deve affrontare problemi che per noi sono banali, tipo come, dove e da dove inizia a raccogliere il pomodoro nel grappolo, che movimento fare per non rovinarlo, quanto forza dare, sono tutte cose semplici per un raccoglietore umano, un robot deve imparare. È molto promettente il lavoro che abbiamo fatto, l'obiettivo è far diventare prodotto questa demo nel prossimo tempo. Qui faccio scorrere giusto qualche video per far vedere che tutto quello che ho raccontato non sono belle idee, questo è un impianto agrovoltaico da noi sviluppato, autorizzato nel 2019 e finito quest'estate, pochi mesi fa, sono 70 megawatt, è agrovoltaico, cioè in mezzo a quei filari c'è un'attività agricola importante. Non sono ancora previste le serre. Questo è lo stesso video dove viene fatto vedere anche tutto l'ambiente di simulazione, eccetera. Lascio e chiudo con un'altra cosa, sempre nell'ottica di pensare alla robotica come un coadjuvante, un aiuto, un supporto all'attività umana e non a una riduzione di spazi, un altro problema delle serre è quella che il delivery del cibo è molto costoso, cioè la serra viene prodotto in maniera continuativa, tutte le settimane si generano raccolto, però poi portarla alle singole case è costoso ed è anche da un punto di vista energetico poco efficiente. Anche qui la robotica ci aiuterà. Abbiamo visto un piccolo video di delivery di un pacco, sembrava anche questa fantascienza qualche anno fa, invece abbiamo visto con Amazon che è in realtà. Quindi l'idea sarà poi avere delle serre un po' distribuite dove l'utente ordina la sua cesta di frutta e gli arriva fresca fresca a casa, come altri prodotti. Interrompo la condivisione della presentazione. Grazie, grazie Maurizio. È stato nei tempi. Perfetto, perfetto, perfetto. Grazie, molto interessante, quindi è un ambito applicativo di grande interesse, tra l'altro anche molto attuale e futuro, l'hai già detto, no? Sembrava fantascienza fino a poco tempo fa, ma ci stiamo arrivando molto velocemente. Passo la parola quindi a Gianluca di Buo, ci parlerà di sistema di visione AI, quindi intelligenza artificiale e robotica collaborativa. Gianluca è amministratore e socio fondatore di IDEA, IDEA tra l'altro e anche tra le altre cose, anche sistema integratore ufficiale di QB Robotics. Non aggiungo altro, faccio parlare te, quindi ti do la parola. Grazie mille, grazie Angela. Non so se mi sentite bene. Perfetto. Io volevo ringraziare te Angela, chiaramente, Fabio e in generale QB per avermi invitato e per poter raccontare un po' la nostra storia e alcune applicazioni che stiamo sviluppando con la Softend. Io ho una presentazione, provo a condividerla così magari posso un po' raccontarvi meglio quello che facciamo. Vi chiedevo, io non vi vedo perché ho manito solo, vi chiedevo un riscontro audio se vedete la mia presentazione. La presentazione non la vediamo, l'audio sì, si sente. Il bello della diretta è come per Fabio. Ho aperto io i problemi con la diretta. Condividi. Adesso si vede? La modalità è che ora ci siamo, perfetto. Perfetto, ok. Allora, come vi dicevo e come hai anticipato tu Angela, noi siamo una società di ingegneria e cerchiamo un po' come emerso dalle presentazioni precedenti di lavorare su due contesti che sono abbastanza importanti e innovativi. Per l'appunto la robotica collaborativa e l'intelligenza artificiale. Io ho una piccola passione che è quella cinematografica, soprattutto quando poi si parlano di temi legati all'innovazione e mi piaceva fare una breve premessa su quello che è un po' il concetto dell'intelligenza artificiale. Magari qualcuno di voi ricorderà un famoso film del 68 di Stanley Kubrick, un po' cervellotico per certi versi, ma che era intitolato 2001 di Se nello spazio. Questo film era, come dicevo, organizzato su quattro fasi ben preciso, ma c'era uno spazio veramente interessante e che aveva anticipato i tempi. Ripeto, siamo nel 68 e parlava di un famoso computer al 9000, un computer che era capace di dialogare, interfacciarsi con degli astronauti all'interno di una stazione in viaggio verso Giove e con delle caratteristiche molto interessanti che anticipavano il cosiddetto concetto della full diagnosi. È un'introduzione, spero, diciamo, interessante che possa catturare l'attenzione, ma più in generale, volendo dare un riscontro storico ben preciso, quando parliamo di intelligenza artificiale, quello che possiamo dire è che questo termine, questa, diciamo, la prima volta che è stato presentato questo concetto è stato nel 56, quindi cominciamo a parlare di circa 70 anni fa, quando un docente, John McCarthy, a una conferenza, ha parlato di prima applicazione di intelligenza artificiale. In quella conferenza erano presenti anche Newell e Simon, che da lì a qualche anno, esattamente nel 58, cominciarono ad anticipare quelle che erano le potenzialità di questa tecnologia. E Simon e Newell nel 58 dissero che da lì a 10 anni, quindi nel 1968, un computer avrebbe potuto vincere una partita di scacchi. Qualche anno successivo lo stesso Simon invece anticipò un concetto che in quota parto oggi vediamo, che abbiamo visto, dalle presentazioni di Fabio e di Maurizio, che i computer da lì a 20 anni avrebbero potuto svolgere delle attività fisiche così come le fanno gli uomini. Forse Simon e Newell erano un po', diciamo, sono euforici e conquistati da questa loro tecnologia. Quegli obiettivi sono stati raggiunti e ci sono voluti qualche anno in più, quindi diciamo la loro previsione è stata corretta, ma magari un po' di vista temporale, però nel 97 e nel 2011 ci sono stati due eventi molto importanti e principalmente nel 97 l'IBM, col progetto di Plu, vinse, implementò una macchina capace di definire delle posizioni di scacchi e riuscirono a battere in una competizione Casparo. Casparo non la prese molto bene, era un tipo non molto sportivo, era abituato a vincere e contestò la veridicità di quell'applicazione, però fu, diciamo, la conferma di quello che disse lo Simon e Newell. Da lì a qualche anno dopo, precisamente nel 2011, il progetto Watson di IBM, quindi un'intelligenza artificiale capace di rispondere in maniera corretta, interpretare e rispondere in maniera corretta delle domande, venne fatto partecipare a un quiz a premi. Perché, e scusatemi, la cosa interessante è che abbastanza recentemente una società, vi mostro questo video che secondo me è molto interessante, tolgo il video, l'audio perché magari non ci sono contenuti di interesse, nello specifico la Boston Dynamics, ha implementato il connubio tra robotica collaborativa, sistemi di visione artificiale e intelligenza artificiale. Quello che vedete in questo video non è un prodotto, diciamo, della computer graphics, è un umanoide vero e proprio, che ha delle capacità motorie di interazione nell'ambiente, di riconoscimento di determinate task e di esecuzione delle stesse, che è il connubio di tre elementi che IDEA cerca di portare avanti, cioè nello specifico gli aspetti di robotica collaborativa, di visione artificiale e di intelligenza artificiale. Ora, quello che vedete fare a questo robot, ahimè io non riesco a farlo, soprattutto operazioni di questo tipo, che vedete fra qualche momento, avvitamenti di questo tipo, se faccio un'operazione di questo genere io dovrei star fermo qualche settimana. Questo per dirvi dove siamo arrivati oggi. Perché oggi si parla tanto di intelligenza artificiale e delle potenzialità di questa tecnologia? Per un motivo ben preciso, anzi, per essere precisi, per tre motivi ben precisi, che sono l'incremento delle capacità o delle potenze computazionali, della disponibilità di volumi di dati che oggi sono veramente sterminati e del miglioramento degli algoritmi di deep learning. Questi tre elementi hanno concorso a far sì che le tecnologie di intelligenza artificiale avessero un ampio, diciamo, respiro e un'ampia implementazione. Chiaramente tutti oggi conosciamo la più famosa, diciamo, implementazione che è ChatCPT, cioè un sistema di interazione uomo-intelligenza artificiale che risponde alle nostre domande. E' anche vero, però, un po' meno nota, ma dalle potenzialità veramente interessanti, sono le cosiddette reti neurali con capacità generative. I volti che vedete scorrere qui, faccio un fermo immagine che magari aiuta, sembrano volti di persone umane, vere, ma vi posso assicurare che questi volti sono generati da tecnologie di intelligenza artificiale, le cosiddette reti generative. Qual è la parte interessante? Non rubo tempo, ma lo vedete qui, la capacità di generare volti e sebbene questo è esplicativo di una, diciamo, capacità e potenzialità del sistema, se lo vogliamo declinare in un contesto, diciamo, operativo, faccio un piccolo salto avanti nel video, immaginate la potenzialità di generare degli outfit, quindi generare moda, dei capi, degli abbinamenti di colore e di, diciamo, di tipologie di vestito. E se questo noi lo portiamo in vari contesti, possiamo vedere che la tecnologia dell'intelligenza artificiale può essere stamente interessante. E ho preparato molto velocemente una carrellata di quelli che sono, prima di arrivare a quello che facciamo noi, di quelli che sono i contesti applicativi. Brevemente ne farò vedere molti, andrò molto velocemente per non sforare nei tempi, ma se pensiamo alla creazione di contenuti digitali, se guardate l'immagine in basso a destra nella slide, quell'immagine è stata generata semplicemente attraverso un servizio che si chiama Meet Journey, dove attraverso un semplice editor si inserisce una frase, in questo caso è stato scritto Spider-Man gioca con un bambino di 4 anni e il sistema genera quel tipo di immagine. Immaginate solo dieci anni fa quante ore di video editing avrebbe richiesto a un designer per poter creare un'immagine di quel tipo. Se la generalizziamo in altri contesti, come la creazione di immagini, quindi creazione di testi, il famoso chat CPT, o le creazioni di PPT, quando siamo in ritardo ci sono dei siti che ci permettono di creare delle PPT molto velocemente. E da qui le applicazioni sono veramente tante. Non mi soffermo, le elenco solo velocemente, come la finanza, la salute, nell'ambito dell'intrattenimento. Oggi è veramente molto, molto richiesta perché ha delle potenzialità e degli effetti veramente interessanti nell'ambito delle vendite, chiaramente, nella logistica e nell'ambito della sicurezza. Vi faccio vedere questo video che è molto interessante. È un'applicazione di intelligenza artificiale che è stata addestrata a riconoscere degli avventori di un supermercato che hanno degli atteggiamenti non proprio consoni, che è il cosiddetto diciamo sistema antitaccheggio. Ma per venire un po' più al contesto di idea, se pensiamo a tutte queste soluzioni, quindi l'intelligenza artificiale, la robotica collaborativa e i sistemi diciamo flessibili di presa e pensiamo ai classici contesti manufatturieri o noi siamo in Ancona nelle Marche, una regione tipicamente molto votata agli aspetti manufatturieri, è possibile pensare a delle applicazioni flessibili e in quest'ambito un po' ricalcando quello che hanno fatto vedere Fabio e Maurizio, quello che stiamo cercando di fare e di portare avanti sono delle applicazioni che in questa fase sono ancora sperimentali ma che in ambito di automazione che è uno dei settori di cui non ci occupiamo è quello di trovare il connubio perfetto tra la parte di robotica collaborativa e sistema di visione combinato con l'intelligenza artificiale e aiutati in maniera veramente molto importante dai sistemi di presa dinamici e quindi vi chiederei un piccolo sforzo di immaginazione ma non è molto difficile immaginate una classica linea di produzione dove vengono realizzati dei prodotti di vario tipo e dei sistemi robotici collaborativi devono andare a interagire con questi oggetti per poterli movimentare e inserire all'interno di un contenitore tipicamente magari di un pezzo ok o un pezzo KO e l'applicazione che abbiamo sviluppato è un'applicazione per l'appunto di robotica con un sistema di visione che vedete nell'immagine con la telecamerina che è una telecamerina a basso costo la scelta è stata diciamo voluta perché l'obiettivo è dimostrare come tecnologia disponibile quindi un robot collaborativo una camera di visione molto economica aiutati da un sistema di presa che permette veramente di compensare diciamo la mancata precisione della camera per andare a fare a gasping di oggetti che come vedete non sono nodi cioè la potenzialità di questa applicazione l'insieme quindi di robotica collaborativa la soft hand il sistema di visione è che la rete neurale è stata addestrata a collaborare con la soft hand questo poi chiaramente abbiamo voluto mettere anche un elemento un po' di di così un po' guascone però la possibilità di andare a prendere oggetti non nodi come può fare un cervello e questo è un esempio di robotica collaborativa vi faccio vedere un'altra applicazione che abbiamo sviluppato in collaborazione con un brand abbastanza famoso che è Fagummi il sistema chiaramente non è una robotica collaborativa però permette di effettuare attraverso tecniche di ispezione quindi con dei sistemi di visione per andare a vedere difettosità su prodotti commerciali come possono essere ruote nello specifico Bridgestone per quello che ha la divisione industriale quindi gomme di uso logistico quindi per camere accentinati alla necessità di asportare il battistrada e fare delle verifiche sulla difettosità della parte sottostante questo può avvenire attraverso tecniche di ispezione quindi sistemi profilometrici e l'individuazione come vedete di quelli che sono i difetti questi difetti vengono passati a sistemi robotici che hanno a bordo degli utensili per l'asportazione della gomma in eccesso che consentono di mettere in evidenza quella che è la parte strutturale della gomma quindi la parte in tela e successivamente attraverso un altro sistema di visione abbastanza economico come può essere una camera matriciale andare a individuare se come vedete proprio in questo frame se la tela è ossidato meno oppure ovviamente come si suol dire se è arrugginita questi sono alcuni esempi di applicazioni di intelligenza artificiale ve ne mostro un ultimo prima di lasciarvi con i consueti consigli diciamo per il futuro questo è un altro esempio molto velocemente di sistema di visione predisposto per la sicurezza cioè andare a implementare un organo di visione tipicamente una camera con un sistema di intelligenza artificiale che ha la capacità di riconoscere degli elementi delle feature all'interno di uno streaming video in questo caso un oggetto che in gergo tecnico viene chiamato ancoretta e la cui posizione relativa rispetto a una verticale indica lo stato di salute delle sospensioni o forse più importante anche da un punto di vista di percezione la capacità di riconoscere una pinza freno e relativo ferodo riconoscere la presenza o l'assenza e laddove è presente lo stato di usura tutto quello che vedete sono una serie di elementi diciamo sulla quale Idea lavora per sviluppare sempre di più delle soluzioni che siano flessibili e facilmente portabili in un contesto produttivo volevo sempre ritornando un po' alla storia raccontarvi magari qualcuno dei partecipanti al webinar conosce questa storia ma tutti quasi tutti ricordano Kodak come un brand estremamente famoso negli anni 80 e 90 quale produttore di supporto per materiale fotografico quindi la creazione di pellicole fotografiche e supporto per la stampa però pochi sanno che un loro ingegnere un certo Steve Sasson nel 78 se non ricordo nel 73 scusatemi fece un'attività di ricerca per sviluppare un innovativo sensore digitale per l'acquisizione delle immagini e la pubblicazione sul monitor Kodak ebbe la lungimiranza di brevettare la tecnologia ma non ci aveva creduto a sufficienza perché parte del management di Kodak aveva detto che nessuno sarebbe stato interessato a guardare un'immagine sul monitor se non che Sony che oggi è un po' diciamo più famosa di Kodak nell'81 sviluppò il primo modello di fotocamera e questo ha consentito a far sì che Sony diventasse un leader mondiale per quel tipo di tecnologia e Kodak oggi purtroppo non è più presente sul mercato almeno quanto meno come materiali di supporto perché racconto questo perché poi mi piace chiudere le mie presentazioni con un elemento abbastanza importante che nasce un po' dall'esperienza di tutti i giorni chiaramente come Fabio potrà confermarmi promuovere nuove tecnologie alcune volte incontra la resistenza di abitudini consolidate e io sulla mia scrivania vicino al mio computer ho un foglio che qui vi ho riportato che è diciamo una frase attribuita a Darwin sul principio dell'evoluzione Darwin affermava che non è la specie più intelligente nemmeno quella più forte che sopravvive ma è la specie che ha la capacità e la rapidità di adattarsi più velocemente a quelli che sono i cambiamenti e gli omini che vedete sotto sono degli omini che cercano di rappresentare un po' il nostro quotidiano dove tutti siamo impegnati a fare delle attività ricorrenti e non abbiamo il tempo di guardarci un po' intorno di vedere quelle che sono le tecnologie oggi disponibili che ci potrebbero consentire veramente di risolvere tante tante problematiche che abbiamo che chiaramente richiedono un po' di impegno e quindi l'invito è di rimanere sempre curiosi e interessati a queste nuove soluzioni io ho finito la mia presentazione non so se sono rimasto anche io nei tempi grazie e lascio grazie a voi grazie Gianluca in realtà sono argomenti molto interessanti potremmo stare qui ora a parlarne e togli pure la condivisione dello schermo Gianluca eccoci quindi per non prendere altro tempo io direi che sono arrivate già due domande Pietro Manzani pone due domande quindi le leggo ad alta voce e poi insomma si risponde cerchiamo di rispondere live a queste domande in merito ai prodotti presentati da Kubi Robotics quali vantaggi ci sarebbero ad utilizzare il vostro dispositivo rispetto a delle pinze tradizionali è la prima domanda quindi Kubi Robotics Fabio tocca a te mi sa mi tocca a me diciamo tocca a te anche la seconda ah sì ok invece avrei voluto fare altre domande ma diventa lungo poi Gianluca e Maurizio un po' li conosco poi gliene farò perché mi hanno stimolato mentre si parlava altre altre idee ma ne parleremo quindi scusami perché diciamo usare i nostri dispositivi quali vantaggi ci sono ad utilizzare la chela i nostri dispositivi rispetto alle pinze ma guarda a netto delle fatiche che ci vogliono come diceva adesso Gianluca riprendo tratto a lui e quello che diceva anche Maurizio nel suo rispetto della sforza che ci vuole per innovare sul mercato per mettere sul mercato nuovi prodotti qui in questo caso mi viene da dire subito una facilità d'uso rispetto a quelle che sono le pinze classico quantomeno sono uguali nello sforzo perché un'intelligenza interna intrinseca a entrambi i dispositivi permette una semplicità d'uso apri e chiudi riusciamo a prendere molti più oggetti ad esempio quindi essere sicuramente più versatili quindi riuscire a fare dei task penso a quello del lusso ma possiamo tranquillamente pensare a quello che abbiamo visto sia con Gianluca quindi un beam picking ma sia con quello un Maurizio il food quindi riuscire a fare dei task che prima venivano fatti o non venivano addirittura fatti come nel lusso se non con grande fatica quindi riuscire a guadagnare delle nicchie di mercato completamente diverse poi la versatilità pensiamo alla soft clothing mi riallaccio questo caso a lei riuscire a essere una pinza classica con in più un vantaggio completamente diverso disrattivo rispetto al passato dove si riescono a fare molte cose più molte cose diverse senza dover costruire di volta in volta un tool ad hoc per ogni tipo di task quindi se devo prendere un oggetto A un oggetto B un oggetto C non devo fare tre oggetti diversi quindi queste mi sento di dire possono essere alcuni dei parametri alcuni dei vantaggi utilizzare questi dispositivi ecco ce ne sarebbero anche altri secondo me però i tempi stringono l'altra domanda è poi sempre relativa alla chela stavi introducendo comunque già la risposta che cosa vuol dire che la chela è a rigidezza variabile si si ricollega alla risposta precedente rigidezza variabile è quel grado di intelligenza più che il dispositivo ha e che converisce poi nella presa finale posso essere una pinza classica ok rigidezza fissa in realtà poi una variabile in più un'adattività in più posso muovere sia un lampone sia un pomodoro sia un frutto ma anche degli oggetti che hanno necessità di una forza diversa pensata a 3, 5, 6 piantine diverse fra di loro e le posso movimentare senza avere dei sensori sui path movimentarle e muoverle in sicurezza senza arreccare danno quindi in autonomia dando un determinato range di intervallo euristico che magari in un certo senso ho preimpostato all'inizio e dopodiché il dispositivo va avanti detto in una parola la semplicità d'uso unita a un'intelligenza meccanica diversa come dicevano sia Maurizio che Gianluca l'evoluzione l'andare avanti l'innovazione non due classici pezzi di alluminio che continuano a fare la stessa cosa non so se ci sono altre domande no non sono pervenute altre domande grazie grazie mille e quindi diciamo possiamo possiamo partire possiamo andare avanti con un altro diciamo sondaggio finale che vogliamo fare eccolo perfetto quindi vi chiediamo di rispondere a queste due domande intanto noi abbiamo siamo partiti comunque da quindi da vedere quali da esaminare le peculiarità dei dispositivi della QB Soft and Industry in particolare della QB Soft Claw abbiamo visto due verticali importanti la testimonianza di Maurizio e di Gianluca Fabio ci ha introdotto anche una serie di possibili applicazioni mercati verticali e applicazioni innovative che si possono implementare perché no potrebbero essere l'argomento di un webinar di più webinar futuri e intanto possiamo quindi fermare il sondaggio vi ringraziamo possiamo concludere siamo perfetto in perfetto orario sono 17.32 ringraziamo tutti i partecipanti grazie ai relatori grazie a Gianluca Maurizio Fabio e buona serata a tutti grazie grazie a tutti grazie arrivederci a tutti grazie a tutti ragazzi grazie a tutti grazie a tutti